E' una novità. Tutto quello per cui abbiamo lavorato è a rischio. Non hai nessuno che possa far fuori Harry Brugan. Gemini si occuperà della cosa. Chi sei? Non ti voglio sparare! E io ti sbarro lo stesso. Io ho l'asset perfetto. Conosceva ogni mia mossa prima che la facessi. Chi è lui? So perché è bravo come te. Lui è te. Gemini gioca a fare di io col DNA. Ma com'è possibile? Potendo clonare qualcuno... ...clonassero Nelson Mandela. Nelson Mandela non uccide un uomo su un treno a due chilometri. Tra tutti quelli che poteva mandare... ...perché ha mandato te. Sono il migliore. E' ovvio che non sei il migliore. Non vedi fino a che punto io ci sto male. Nessun dubbio. Deve morire. Guarda noi! Ti ha mentito per tutto il tempo. Vuoi innervosirmi? Ehi! Io voglio salvarti! Che succederebbe se qualcuno sapesse... ...cosa siamo davvero?